Buonasera, bentornati alla fumetteria in tv. Abbiamo con noi questa sera una grande sorpresa, non è vero, Cristina Piazza di Crazy Comics and Games di Varese. Sorpresa, eccomi qua, sono sempre io, quella di tutte le settimane, ma stavolta ho portato qualcosa di fichissimo, in realtà anche questo lo faccio tutte le settimane. Fairy Tale 100 Quest. Voi già tutti sicuramente conoscerete Fairy Tale e se non lo conoscete tutti dovreste conoscerlo. Perché? Perché è un manga molto divertente, è un manga d'avventura per ragazzi e abbiamo presentato la serie regolare in diverse occasioni. Ma questo, che cos'è? Questo è una side story, quindi una storia parallela di cui è uscito il primo volume. La nostra gilda di Fairy Tale, che appunto ormai è diventata la gilda più importante e più forte all'interno di questo mondo in cui i maghi detengono il potere, apre le porte a tre nuovi maghi. Questi tre nuovi maghi sono maghi inesperti, diciamo, che cercano appunto di essere presi in questa gilda. Sono un bambinetto apparentemente innocuo, una bella ragazza e un mago un po' spaccone. Questi tre nuovi membri hanno chiesto di entrare nella gilda di Fairy Tale per diversi motivi, ma uno in particolare è quello di conoscere Natsu, uno dei maghi più forti. Ma quando arrivano lì scoprono che Natsu è partito per una missione dei cent'anni e quindi dovranno fare senza di lui, ma soprattutto dovranno capire dove è andato. E allora questo volume diventa il record dell'inizio di questa missione dei cent'anni. Ce la farà Natsu a portarla a termine? Lo sapremo solo nel numero due o magari nel tre, perché non sappiamo quanti numeri sono attualmente, ma leggetelo, edizioni Star Comics, un bel manga d'avventura. Bene, abbiamo parlato di magia, usciamo un attimo dal mondo dei fumetti, ma restiamo nel mondo della magia. Quando si parla di magia non si può fare a meno di parlare di Harry Potter. Harry Potter lo conosciamo tutti, lo amiamo tutti, amiamo tutti il suo mondo, Hogwarts, i suoi amici. E questo libro è il taccuino dei film di formule e incantesimi. Poi dentro potete trovare infatti gli incantesimi più famosi che abbiamo ascoltato e visto nei film, abbiamo letto nei libri di Harry Potter, con anche il modo per eseguirli con le vostre bacchette acquistate. Le vostre bacchette ce ne sono tantissime. Bacchette originali acquistate, perché quelle originali sicuro funzionano. Funzionano, bisogna essere dei maghi. Esatto, bisogna stare attenti alla pronuncia perché Vingardum Leviosa, così funziona. Se invece la fate più spiccia, no. E ricordatevi che comunque all'interno di questo libro ci sono, sì, incantesimi ottimi per far volare piume, però potreste magari imparare anche a fare delle palle di fuoco, delle iatture terribili. Comunque, io dico che vengono sempre buone. Tra l'altro qua vengono descritti, appunto, gli incantesimi più famosi, vengono descritti gli incantesimi, vengono narrate le storie dietro le quinte e ci sono anche un sacco di gadget, di piccoli poster, adesivi, per arricchire la vostra esperienza magica. Ci sono anche gli incantesimi senza perdono, quelli proprio bruttissimi che servono a fare malissimo. Speriamo che voi non li impariate mai. Esatto. Oppure eventualmente dopo cercate di imparare anche un incantesimo che cancelli la memoria, così nessuno se lo ricorda, non è stato fatto. È importante questo. Ci sono tante illustrazioni, molto belle, molto suggestive, sempre nello stile che caratterizza tutti i racconti di Harry Potter e tante foto del sette, tanti, come dicevo, tanti retroscena. Quindi per tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter, formule e incantesimi, diventate tutti dei grandi maghi. Adesso diventiamo un po' più seri. Raccontiamo un manga un pochino più serio. Raccontiamo un manga un pochino più serio. Storia di una geisha, una gru infreddolinta. Questo manga raccolto in un volume unico è appunto la storia che ha ispirato, ad esempio, il film Memorie di una geisha. Non so se voi lo avete visto, è un film molto bello, molto doloroso anche. L'autore è Kazuo Kamimura e racconta proprio la genesi di questa geisha, la vita delle bambine, ma non solo, anche delle insegnanti geisha, in un periodo storico in cui comunque il ruolo della donna in Giappone era già, diciamo, piuttosto difficile per un'infinita serie di motivi. Questo racconto è molto, molto forte e racconta davvero quello che sono gli avvenimenti e quello che è la vita di una bambina che si muove verso un futuro già scritto. Molto crudo nella narrazione, ma in realtà nei disegni è molto... Delicato. Sì, è delicato, non mostra cose terribili, ma mostra l'idea di quello che succederà, e quindi viene veramente colpisce il cuore. Emozionante. È molto emozionante, è una lettura veramente interessante, secondo me, per tutti, soprattutto per le donne, perché chiaramente tocca un tema che è direttamente coinvolgente per noi, ma è veramente per tutti, un romanzo grafico, anche storico, se vogliamo, perché riprende esattamente tutto quello che era il panorama sociale di quel periodo. Quindi una bambina che, per certi versi, crede che sia giusto fare quello perché comunque la sua società l'ha insegnato così, ma che dall'altra parte, crescendo, scopre la ribellione, scopre che c'è altro oltre alla vita a cui lei era destinata. Edizioni J-pop, un volume unico, molto bello da leggere, ma secondo me anche molto bello da regalare. Se tenete a qualcuno e volete fargli un bel regalo, questo è un bellissimo romanzo grafico. Io ve lo consiglio altamente. Tra l'altro sta molto bene anche in libreria perché ha questa copertina così delicata con questa figura di questa donna gru che è veramente meravigliosa, suggestiva. Lasciamo da parte per un attimo la poesia e facciamo uno strano viaggio, uno strano viaggio che parte da New York per arrivare a Venezia e tutto questo grazie a un personaggio molto amato e conosciuto da tutti che è Spider-Man e due autori italiani, Tito Faraci e Giorgio Cavazzano. Ecco qua. Eccoli qua. Spider-Man, il segreto del vetro. Tito Faraci è uno dei fumettisti orgoglio locale, possiamo dire, perché viene nato a Tepozzolo, quindi di questa zona, uno dei tanti, perché in questa zona ci sono tantissimi fumettisti veramente bravi. Patria di artisti. Siamo una patria del fumetto. e Tito Faraci è un autore che è conosciuto più che altro per le sue storie su Topolino, ma non solo, anche un autore di Landog e di altri... Poi ha scritto grandissime storie storiche, veramente un grande conoscitore anche della storia, oltre che del... Assolutamente, sì. E Giorgio Cavazzano, un disegnatore, il disegnatore, anzi, che ha rinnovato lo stile Disney, ha fatto... è uno degli autori che maggiormente ha influito sullo stile grafico delle storie Disney, molto vivace, molto sintetico, allegro, e devo dire che questa coppia, Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, si sposa per... meravigliosamente con la storia di Spider-Man. Spider-Man va a Venezia in una vacanza lavorativa ma non pagata dal suo capo J. Jonah Jameson, che come sappiamo è un po' tiratino, un po' Godzilla, il bracino corto, e si troverà a dover combattere con un conte misterioso nascosto dentro una bara di vetro che è un po' ragno, un po' vampiro, non si capisce bene che cosa sia. Un po' vetraio. Un po' vetraio, anche, assolutamente, si ritrova poi, tra l'altro, a Venezia durante il Carnevale, quindi lui non ne poteva più di vedere eroi, supereroi, supercattivi, soprattutto mascherati, si ritrova di nuovo in mezzo alle maschere. È una storia molto spassosa, ma anche molto particolare per chi è abituato a leggere le storie Marvel, troverà qua qualcosa in più. Posso dire, ci vantiamo di questa capacità dei nostri autori italiani, perché veramente riescono a dare un tocco in più, un'immagine un pochino di più a tutto tondo del personaggio di Spider-Man. Sì, diciamo che Faraci e Cavazzano sono una coppia che scoppia, esatto, per cui sicuramente mettere insieme loro per creare un albo Marvel dà un risultato che è veramente superiore a quello che è la storia di produzione cadenziata, quindi che siate lettori Marvel o che non lo siate, questo è veramente molto bello, divertente. Tra l'altro nelle ultime pagine di questo albo c'è un dietro le quinte con Schizzi di Giorgio Cavazzano, la preparazione di tutte le tavole, la sceneggiatura di Tito Faraci, una serie di storie, di racconti, di frasi di Tito Faraci sulla realizzazione di questo fumetto, quindi veramente bello, un fumetto che può arricchire la vostra libreria in maniera veramente interessante. Stiamo presentando dei fumetti veramente bellissimi, bellissimi, che stanno bene anche esteticamente. avete tanti libri, siete dei lettori di quelli proprio duri e puri, metteteci anche dei fumetti vicino perché fanno sono belli, stanno bene, in più hanno questa cosa delle figure che sono divertenti, quella cosa bella del fumetto che lo puoi rileggere continuamente senza annoiarti mai, perché trovi sempre delle cose nuove. E soprattutto puoi farli leggere a tuo figlio quando magari è ancora troppo piccolo per leggere dei libri insomma molto grandi, per allenarlo alla lettura senza sforzarlo dandogli anche degli elementi insomma un po' divertenti questo può essere un bel modo tantissimi tantissimi ragazzi si sono avvicinati alla lettura ragazzi che non ne volevano sapere assolutamente attraverso il fumetto. Inoltre questo fumetto in particolare di Spider-Man è veramente perfetto per assolvere questo compito. Benissimo, dopo questa chiusura didattica diciamo così i consigli di lettura della fumetteria in tv ritornano la prossima settimana giovedì alle 21 su Rete 55 e noi vi auguriamo una buona serata. Buonasera e grazie. Grazie.